ciao amici benvenuti in questo nuovo video e oggi voglio affrontare un argomento che ritengo fondamentale per chiunque si dedichi alla fotografia l'importanza di riconoscere e migliorare le proprie abitudini ho intitolato questo video le 9 peggiori abitudini nella fotografia del paesaggio perché ho notato che spesso sono proprio le nostre abitudini quelle che ci sembrano innocue a limitare il nostro sviluppo artistico e la nostra creatività ognuno di noi ha delle abitudini delle routine che seguiamo a volte senza nemmeno rendersene conto alcune di queste abitudini possono essere utili ma altre possono invece diventare dei veri propri ostacoli e la fotografia di paesaggio non fa eccezione nel corso del tempo ho scoperto che alcune delle mie abitudini fotografiche quelle che consideravo normali tutto sommato stavano in realtà limitando la mia capacità di esprimere la mia visione artistica e ho notato questa cosa in altri fotografi riconoscere queste abitudini prendere conoscenza il primo passo per poterle cambiare e una volta che le abbiamo cambiate ci accorgiamo che la nostra fotografia migliora diventa più personale e più espressiva nel video di oggi vorrei condividere con te queste 9 abitudini che ritengo le peggiori nelle fotografie di paesaggio non perché voglio criticare e basta ma perché spero che mettendo in luce questi aspetti e comportamenti possa aiutare ognuno di noi a riflettere sulle nostre abitudini e trovare il modo per migliorarle spero che questo video ti possa essere d'aiuto che ti faccia riflettere e che forse ti aiuti a migliorare la tua fotografia e ricordi l'importante non è la meta ma il cammino buona visione ma prima di iniziare come sempre ti chiedo di iscriverti al canale cliccando sul pulsantino qui sotto in modo da rimanere aggiornato a giornata sulle mie prossime pubblicazioni perché la maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritta iniziamo col primo punto troppa fretta nel voler vedere il risultato finale e questa è un'abitudine che lo ammetto anch'io ho avuto per molto tempo quando torni da un viaggio da una sessione fotografica sei pieno di entusiasmo hai appena vissuto dei momenti incredibili hai catturato delle immagini che ti hanno emozionato e non vedi l'ora di vedere il risultato finale qui casca l'asino come si suol dire la fretta di vedere subito la nostra opera compiuta ci spinge a lanciarci nella post produzione senza prendere un respiro e qual è il rischio che la nostra fretta ci porti a fare scelte affrettate a non valutare con attenzione ogni singola modifica e di conseguenza a non rendere giustizia la bellezza di quello che abbiamo catturato con la nostra macchina fotografica ti è mai capitato di guardare una foto editata qualche giorno prima e pensare avrei potuto editarla meglio ecco questo proprio il risultato di una modifica troppo rapida quindi come possiamo migliorare questo aspetto il mio consiglio di prenderti il tuo tempo quando torni a una sessione fotografica fai una prima selezione delle immagini va bene ma poi lasciarle riposare dati un po di tempo che sia qualche ora ma sarebbe meglio qualche giorno per distaccarti emotivamente dalle tue foto quando ti riavicinerai successivamente alla post produzione all'editing lo farai con un occhio più fresco e una mente molto più aperta e non sarai soprattutto più influenzato dall'emozione immediata dal momento in cui è scatato la foto ma sarai capace di valutare la tua immagine in modo molto più obiettivo potrai così concentrarti su come migliorare ogni aspetto delle tue foto dall'esposizione alla composizione dai colori al contrasto senza lasciarti guidare dall'impazienza di vedere quel risultato finale e questa piccola modifica nel tuo approccio può fare una grande differenza nella qualità delle tue immagini e ricorda la fotografia è un'arte e l'arte ha bisogno di tempo per essere apprezzata e perfezionata è scattare con un solo obiettivo con un obiettivo magari a focale fissa e qui mi tirerò dietro un sacco di insulti perché tempo fa ti metterò qui il link ho fatto un video dove parlavo appunto dei pregi e dei vantaggi nell'utilizzare un'ottica a focale fissa ma ti ho anche detto che non ci sono solo aspetti positivi ma ci sono anche degli aspetti negativi o meglio poter avere una varietà di obiettivi può anche portarti dei vantaggi e sono sicuro che molti di voi come me avranno un obiettivo preferito quello a cui ci affidiamo così sempre quello che ci fa sentire a nostro agio ma ti sei mai fermato a pensare a quanto questa abitudine possa essere limitante? Guarda lo ammetto anch'io sono colpevole di questo anche quando scattavo con la Canon EOS R5 pur disponendo di vari obiettivi nella mia borsa mi sono ritrovato più vuoto a utilizzare il mio affidato obiettivo granangolare per intere sessioni fotografiche dimenticando totalmente gli altri obiettivi che avevo nella mia borsa e proprio come una dieta che si basa solo su un tipo di alimento questa tendenza può portare alla mancanza di varietà nelle nostre immagini quindi come possiamo migliorare e superare questa abitudine? Il primo passo è quello di riconoscere l'importanza di variare la nostra prospettiva ogni obiettivo ha un suo carattere un suo modo di farti vedere il mondo un teleobiettivo può aiutarti a disolare i dettagli un obiettivo granangolare può dare un senso di spazio d'ampiezza un obiettivo normale può catturare una vista più naturale e simile a come i nostri occhi vedono il mondo la prossima volta che esci per una sessione fotografica ti invito a sfidarti prova ad utilizzare un obiettivo che non usi spesso o un obiettivo con il quale non ti sei mai trovato proprio a tuo agio esplora le diverse prospettive che ti può offrire vedrai che sarà un'esperienza che ti arricchirà non solo tecnicamente ma anche creativamente e alla fine potresti anche scoprire che hai più nell'obiettivo preferito ricorda che la bellezza della fotografia sta nella sua capacità di mostrarti il mondo in modi nuovi e sorprendenti e variare l'obiettivo con cui vai a scattare è uno dei modi più semplici e potenti per farlo se disponi di un corredo se hai più obiettivi non limitarti a un solo obiettivo esplora sperimenta divertiti vedrai che il tuo stile fotografico ne trarrà soltanto benefici non controlli le foto una volta fatto lo scatto questa è una di quelle abitudini che potrebbe sembrare innocua ad altronde che scattava in analogico non aveva modo di controllare subito le foto ma questo è il potenziale di causare una forte frustrazione confessiamolo tutti noi abbiamo vissuto questo momento torniamo a casa dopo una lunga giornata di scatti carichiamo le foto sul computer e ci accorgiamo che l'immagine che pensavamo fosse perfetta è in realtà sfocata micro mossa un elemento indesiderato che rovina la composizione eccetera e tutto perché non abbiamo controllato attentamente le nostre foto è il momento dello scatto il digitale le fotocamere di oggi ci permettono di farlo perché allora darci queste zappate sui piedi e guarda ti capisco davvero quando siamo sul campo presi dalla nostra passione è facile essere così concentrati sullo scatto successivo da dimenticare di dare un'occhiata a quello che abbiamo appena fatto ma avere l'abitudine di controllare le nostre immagini subito dopo lo scatto la tecnologia attuale ce lo permette sfruttiamo questo vantaggio può davvero fare la differenza tra il portale a casa la foto dei tuoi sogni o un grande disappunto ed ecco il mio consiglio dopo ogni scatto prenditi del tempo per dare un'occhiata all'immagine sullo schermo della tua fotocamera controlla la messa a fuoco la composizione l'esposizione assicurati che tutto sia come volevi se noti qualcosa che non va ancora la possibilità di correggere di fare lo scatto specie magari se sei in luoghi dove non andrà in molto spesso ti capiterà solo una volta nella tua vita ricorda nella fotografia come in molte altre cose nella vita la prevenzione è la chiave prenditi quel momento extra per controllare le tue foto ti garantisco che la qualità dei tuoi scatti ne risentirà in modo positivo e la prossima volta che scaricherai le immagini sul tuo computer non avrai più brutte sorprese ma solo la gioia di vedere le tue bellissime foto esattamente come le avevi immaginate e fatte in quel momento condizioni meteo avverse adesso siamo onesti con noi stessi quante volte abbiamo controllato le previsioni meteo prima di fare un'uscita fotografica e vista la previsione di pioggia temporali abbiamo deciso di rimanere a casa pensando che non fosse il giorno giusto per fare delle belle foto beh amico mio devo dirti che questa è una delle abitudini che più di tutte ti impedisce di evolvere nel percorso di fotografo di paesaggio sì perché il maltempo contrariamente a quanto si possa pensare ti può offrire delle opportunità fotografiche davvero uniche e spettacolari nuvole drammatiche luci inaspettate pioggia nebbia vento tutto questo può trasformare una scena ordinaria in qualcosa di straordinario il maltempo può portare con sei un'atmosfera unica capace di trasmettere emozioni intense di dare un carattere forte alle tue immagini il mio consiglio quindi è quello di non avere paura del maltempo ovviamente occorre fare attenzione non mettere a rischio la propria sicurezza ma con le giuste precauzioni uscire con la nostra fotocamera anche quando il tempo non è dei migliori può rivelarsi un'esperienza incredibilmente gratificante perciò la prossima volta che vedi un temporale in arrivo delle nuvole all'orizzonte non rinunciare prende il tuo zaino la tua fotocamera e parti potresti scoprire che le giornate in maltempo sono quelle che ti regalano le immagini più belle e memorabili e ti assicuro che non c'è niente di più bello che tornare a casa dopo una giornata di pioggia magari fraddicio ed infredolito ma carico di entusiasmo e con la scheda di memoria piena di foto da scoprire la fotografia di paesaggio non è solo sole e cieli azzurri autunno paesaggi al tramonto è anche la capacità di cogliere la bellezza della natura in tutte le sue manifestazioni anche quelle più imprevedibili e sfidanti e tu sei pronto a cogliere questa sfida cambiare gli obiettivi troppo velocemente con poca cura ecco questo magari un punto un po borderline ma credimi alla sua utilità a volte presi un po dalla frenesia andiamo a cambiare gli obiettivi un po troppo velocemente con poca attenzione magari in condizioni atmosferiche particolari pioggia vento eccetera cosa può comportare questo che il sensore si sporchi e questo dopo ti porta in editing a fare un lavoro aggiuntivo per eliminare i difetti presenti nel sensore a me una volta è capitato veramente di trovarmi anche una foglia all'interno e vanno obiettivo andando a cambiare gli obiettivi una giornata di vento in mezzo a un bosco piano di foglie che volavano va beh è un altro discorso ad ogni modo quello che dobbiamo ricordarci è che la fotografia è fatta anche di dettagli e anche la cura e l'attenzione che mettiamo nella manutenzione della nostra fotocamera dei nostri attrezzi possono influire sulla qualità delle nostre immagini perciò la prossima volta che ti trovi magari a cambiare l'obiettivo in mezzo ad un campo con la pioggia col vento ricordati questo consiglio prenditi il tuo tempo fallo con cura e le tue foto ringrazieranno dormire troppo essere pigri e non alzarci sì lo ammetto un'abitudine che affligge anche me quante volte abbiamo pensato beh questa foto qui in mente posso farla anche più tardi e siamo andati a premere quel maledetto pulsante dello snooze sulla sveglia quello che la ritarda posticipa i 10 minuti e quante volte poi ci siamo svegliati solo per scoprire che abbiamo perso quella luce dorata del mattino che avrebbe reso le nostre foto assolutamente magiche quello che ho imparato è che la luce del mattino può offrire alcune delle condizioni di illuminazione più belle ed uniche per la fotografia del paesaggio è il momento in cui il mondo sembra svegliarsi e tutto è fresco e nuovo e c'è una qualità della luce che semplicemente non si può replicare in altri momenti della giornata ma quindi come posso superare questa tentazione di rimanere sotto le coperte il mio consiglio è quello di fare un esperimento molto semplice nei giorni precedenti all'uscita che hai previsto imposta gli orari sveglia ancora prima in modo da abituarti ad alzarti a quegli orari e ti garantisco vedrai che l'entusiasmo di catturare la luce del mattino le meravigliose immagini che ne risulteranno ti daranno una ragione per saltare la prossima volta su dal letto in modo rapidissimo la fotografia di paesaggio non è solo questione di tecnica ma anche di passione ed edizione e a volte tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un po di motivazione extra per superare le nostre abitudini e vedere il mondo da una prospettiva diversa perciò la prossima volta che l'allarme suona non premere con snooze ma invece alzati a fare la tua fotocamera va a scoprire la magia della luce del mattino non te ne pentirai esaminare troppo i dettagli delle foto questa abitudine ammettiamolo è qualcosa di cui molti di noi sono inclini quante volte ci siamo ritrovati ad ingrandire le nostre immagini al massimo scrutando ogni singolo pixel preoccupandoci per ogni minima imperfezione capisco credimi ti capisco vogliamo che le nostre immagini siano perfette ma qui sta il problema l'ossessione per i dettagli microscopici può distoglierci dal quadro generale dalla storia che la nostra foto deve raccontare e alla fine questo è quello che conta davvero la maggior parte delle persone che guarderanno le nostre foto non le ingrandiranno al cento per cento non esamineranno ogni singolo pixel quello che faranno sarà apprezzare l'immagine nel suo insieme l'atmosfera che crea l'emozione che trasmette e come possiamo superare questa abitudine il mio consiglio è quello di fare un passo indietro quando guardiamo le nostre foto cerchiamo di vederle nel loro insieme invece di preoccuparci per ogni dettaglio chiediamoci la foto racconta la storia che volevo raccontare trasmette l'emozione che volevo trasmettere focalizzati sull'immagine complessiva non sui dettagli microscopici ricordati che la perfezione non è l'obiettivo l'obiettivo è creare una foto che parla chi guarda che evoca un sentimento che racconta una storia e soprattutto la fotografia non è una scienza esatta è un'arte e l'arte è perfetta nella sua imperfezione perciò la prossima volta che ti troverai a scrutare i dettagli in una tua foto ricordati di questo consiglio non perdere di vista il quadro generale e vedrai che le tue foto ancora una volta ti ringrazieranno e arriviamo l'ottavo punto assumere che la post produzione risolverà tutto e lo so viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ci offre strumenti incredibili per modificare migliorare le nostre foto ne ho già parlato in tante altre occasioni può essere tentante pensare che indipendentemente da come venga scattata una foto potremmo sempre correggerla in post produzione ma questa è una trappola nella quale non dovremmo infilarci sì gli strumenti di post produzione sono potenti possono fare miracoli ma non dobbiamo dimenticare che la fotografia è prima di tutto l'arte di catturare con la luce e questa cattura avviene nel momento in cui premiamo il pulsante di scatto non quando siamo davanti al nostro computer la post produzione dovrebbe essere un mezzo per migliorare una foto già buona non per salvare una foto scattata male ho sempre detto che l'editing è molto importante e serve però a finalizzare il nostro lavoro se iniziamo a far troppo affidamento sulla post produzione rischiamo di perdere la nostra abilità di catturare la bellezza del mondo con la nostra fotocamera quindi come possiamo superare questa abitudine il primo passo è quello di puntare ad ottenere la composizione giusta direttamente in camera prima di scattare prendete il tuo tempo per pensare la tua immagine che tipo di storia vuoi raccontare qual è la luce migliore per raccontare questa storia come posso usare la composizione per guidare l'occhio osservatore in tutta l'immagine se ti concentri su questi aspetti prima di scattare vedrai che le tue foto miglioreranno notevolmente e quando arriverai nella fase di post produzione invece che cercare di correggere la foto potrai concentrarti su come migliorarla ancora di più infatti l'editing è uno strumento che ti va a completare a finalizzare il lavoro una cosa che dico sempre riguardo la post produzione la fotografia è un'arte e come tutte le arti richiede tempo pratica dedizione non cercare scorciatoie ma concentrati su come migliorare la tecnica di scatto e vedrai che con il tempo la pazienza l'impegno arriveranno anche i frutti e la soddisfazione che proverai nel vedere le tue foto bellissime sarà la ricompensa migliore per tutto il tuo duro lavoro infine l'ultimo punto ma certamente non per importanza crearsi troppe aspettative questo amici miei un'abitudine che può influenzare non solo la nostra fotografia ma anche il nostro approccio generale alla vita quante volte ci siamo diretti verso un luogo fotografico con un'immagine ben precisa in mente ne ho già parlato in altre occasioni solo per ritrovarci delusi perché le condizioni non erano quelle che ci aspettavamo o magari abbiamo passato ore a tentare di ottenere quel singolo scatto perfetto ignorando tutte le altre meravigliose opportunità fotografiche che ci circondavano la verità è che la fotografia come la vita è piena di imprevisti e mentre è importante avere dei piani e delle idee è altrettanto importante essere aperti ai cambiamenti e saper adattarsi quindi come possiamo gestire le nostre aspettative il mio consiglio è di approcciarsi alla fotografia e alla vita con un senso di curiosità e di apertura invece che cercare a tutti i costi di realizzare un'immagine che abbiamo in mente cerchiamo di essere presenti nel momento di apprezzare le bellezze che ci circondano la bellezza della fotografia sta nel suo potere di sorprenderci dimostrarci cose che non ci aspettavamo quindi la prossima volta che esci con la tua fotocamera lascia a casa le tue aspettative apri gli occhi apri il cuore e lasciati sorprendere dalle meraviglie che il mondo ad offrire ed eccoci qui amici abbiamo esaminato le novi peggiori abitudini che possono ostacolare la nostra crescita come fotografi di paesaggio spero che discutendo su questi punti vi abbia dato un po di spunto sul quali riflettere sul come poter migliorare la tua pratica fotografica ricorda nessuno di noi è perfetto tutti abbiamo delle abitudini che in un modo o nell'altro limitano la nostra creatività e la nostra capacità di esprimerci attraverso la fotografia ma la cosa bella è che una volta riconosciute queste abitudini possono anche essere cambiate se questo video ti è piaciuto ti è stato utile vai qui sotto metti un like al video iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto a me non resta che ringraziarti per avermi seguito fino a questo punto ringraziare tutti i sostenitori del mio progetto i patrons che veramente le ringrazio con il cuore trovi tutte le informazioni qui sotto nel notte dell'episodio per diventare anche tu un sostenitore e a me non resta che salutarti e ci vediamo al prossimo video ciao da Alessio